Sì Alessandro, buongiorno. Come dicevi oggi è stato un doppio appuntamento per il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese che è tornata nella sua potenza, lo ricordiamo lei è originaria di qui, per due appuntamenti. Sicuramente l'inaugurazione della sezione lucana della Direzione Investigativa Antimafia e poi la firma del protocollo d'intesa con la Regione per il numero unico europeo di soccorso. Sicuramente l'appuntamento più atteso era quello dell'istituzione della DIA. Vediamo subito come è andata nel servizio di Eleonora Cesareo. In realtà la sezione lucana della DIA, un momento atteso e ospicato da più parti che si è realizzato questa mattina con l'inaugurazione della sede in via Vaccaro a Potenza. Ospite d'eccezione è la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese che ha fortemente voluto esserci. Inizialmente prevista per il 25 febbraio, la cerimonia è stata rinviata ad oggi per l'emergenza guerra in Ucraina proprio per dare al Ministro la possibilità di esserci. Una polizia specializzata pronta al contrasto alla criminalità e ad operare in sinergia con tutte le altre forze presenti sul territorio. Questo l'impegno degli uomini che opereranno a Potenza. È una vittoria di tutti, è una vittoria della Basilicata, del popolo della Basilicata che ha uno strumento in più per difendersi dall'aggressione della criminalità organizzata che è sempre più pervasiva ed è presente su tutto il territorio regionale. Le priorità sono sicuramente l'aggressione al patrimonio di queste organizzazioni che hanno accumulato nel corso di decenni e che la dia a tutti gli strumenti per poter individuare e quindi consentirci di giungere al sequestro e alla confisca dei beni. Alzare il livello di attenzione e di prevenzione in Basilicata prima che la situazione si deteriori nel contrasto ad una criminalità nuova ma presente in numerose aree. È una mafia nuova, è una mafia che viene stata importata, come dicevo prima, da un esterno ma che ormai è radicata in alcune zone, soprattutto in alcune zone costiere e nella zona di Menfi. Ha una sua importanza ormai, ha una sua storia e va affrontata con professionalità. Il ministro ha parlato del ruolo della DIA in una regione che è accerchiata da altre realtà dove le criminalità organizzate sono fortemente presenti ma ha posto anche l'accento sul momento attuale, quello del Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza che porterà qui un fiume di danaro che porterà la criminalità organizzata a correre come le api al miele, come le mosche al miele. Sentiamo. Questa è un'iniziativa che avevamo messo in campo un anno fa ma ci vuole il tempo e il momento giusto. Ora il momento è quello giusto anche perché ci sono moltissime risorse del PNRR e quindi si potrà fare una grande attività investigativa cercando di preservare questo territorio dalle mafie. Già l'anno scorso noi abbiamo istituito una sezione della DIA a Foggia e ora è stato il momento della Basilicata in un momento particolare e quindi ritengo che sia particolarmente importante. Una conquista abbiamo detto la sezione lucana della DIA a cui si è giunta grazie a una richiesta che è arrivata coralmente da tutta la Basilicata politica, istituzioni, sindacati e a cui si è arrivati dopo circa un anno di tensione ma vediamo come è andato quest'anno con Diana Fichera. E' il 2021 l'anno chiave per la nascita della sezione della DIA a Potenza e il periodo in cui si intensificano pressioni, appelli, prese di posizione da parte di istituzioni regionali, forze politiche di ogni schieramento, sindacati e associazioni sulla necessità di strutture investigative più efficaci contro il fenomeno mafioso in Basilicata ha battuto in questi anni il procuratore di Potenza Francesco Curcio in occasione di alcune importanti indagini. Richiesta ripetuta nel giugno dell'anno scorso davanti alla Commissione parlamentare antimafia quando il magistrato esordì descrivendo la non efficiente cooperazione negli anni precedenti fra Procura di Matera e Direzione Distrettuale Antimafia a Potenza ma nel quadro disegnato dalle relazioni semestrali della DIA non era più pensabile una situazione di stallo. In Basilicata da molto tempo non ci sono solo gli sconfinamenti di organizzazioni antiche e potenti Ndrangta in primis ma ci sono anche il crescente potere dei clan autoctoni l'intraprendenza di nuovi gruppi criminali, tentativi di infiltrazione nell'economia legale un mondo di mezzo in fermento deciso a non lasciarsi scappare la grande occasione del PNNR. E dopo la cerimonia di inaugurazione della DIA in Prefettura la seconda parte della giornata con la firma del protocollo d'intesa per il numero unico di emergenza europeo firma fatta con il governatore Vito Bardi al 112 saranno accorpate tutte le richieste di sicurezza e sanità in una centrale unica che smisterà ai soggetti competenti l'ordine di intervento. Contemporaneamente ha spiegato il prefetto Michele Campanaro nella prima fase continueranno a funzionare tutti i numeri che saranno concentrati termineranno tutti quanti però la centrale unica che gestirà le richieste di interventi. La Basilicata sarà così la dodicesima regione italiana ad attivare questo servizio che è stato voluto dall'Unione Europea e porta molti benefici operativi non siamo secondi a nessuno, ha detto il governatore Vito Bardi che ha annunciato anche una campagna di comunicazione per informare i cittadini di questa novità e per abituarli all'utilizzo del nuovo numero di intervento. Il Ministro in conclusione ha fatto poi riferimento anche alla tragedia dell'Ucraina e al problema dei rifugiati, un tema diverso ha detto ma non potevamo non fare un accenno a questa tragedia che riempie le nostre vite e le nostre giornate. E con questo è tutto Alessandro Triletti.